Ok, sembra una cosa semplice È una bici Ma cavolo di bicicletta Sì Grande Non ti fai fermare da queste cose qui Già finito? Oh, mamma mia, che caspita è sta Oh, che bello qui Come fa? Come caspita sta guidando? Come cavolo sta guidando? Vabbè, no, dai, ciò diamo Mamma mia La porta non ce l'ha più Quindi, facciamo un buco qui Qui Mamma mia Ma sono un cretino? Eh, ok Questa è sparta Sì, vola Versa la vittoria Papà Guarda che ce la fa Cavolo Ok, devo fare che cosa Non credo che devo fare questo Così Devi prendere Cavolo ha fatto Oddio E infine l'ingrediente segreto Quello che hanno praticamente tutti Tutte le ricette Noi in questo caso avremo un telefono Ecco qui E anche un anello Non si fa male Poi prendiamo questo Lo aggiungiamo un po' Questo qui E la zuppa È quasi completa Ecco fatto Adesso prendiamo il forno al micro Facciamo tutto Qui Ok Ok Mettiamo tipo una ventina di minuti Ecco qua la sua zuppa Pronta Da mangiare E scusa Dì ti ho fatto la zuppa E tu mi picchi Sì, un osso Oddio, oddio, oddio Che spavento Dici che è impossibile davvero Sì Sì, sembra proprio impossibile E bombe Dai, guarda Guarda che non appende Guarda che non appende Che è mitico Sì Cadere giù E così la gatta Che funziona Adesso basta non toccarla E poi ci stiamo andando avanti Lo stesso vale perché Sì, si chiede Ti odio, Jimmy Ti odio No, 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 no Mamma mia Sì, si chiede imo Grazie a tutti. 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 Un giorno vi dovrò insegnare come guido io. Come cavolo guido? Grazie a tutti. 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 L'orsetto continuerà a saltellare a sapere la sua testa. E a un certo punto lui deve lanciare in avanti. E a un certo punto lui deve lanciare in avanti.